Il nostro breve viaggio nelle colline dell'Oltrepopavese ci ha portato a incontrare agricoltori e allevatori che hanno deciso di puntare su produzioni estremamente specializzate, apparentemente dalla resa minore rispetto a prodotti più comuni. Si tratta tuttavia di una strategia ben precisa, che miscela ragioni economiche e persino affettive, orgoglio e convenienza. Vacca frisona o vacca varzese? Però io queste vacche qua me le ricordavo che ce le aveva ancora mio nonno, anche nell'Apenino genovese, perché erano vacche che comprendono tutto l'arco dell'Apenino, sia della provincia di Genova che quella di Pavia, che quella di Alessandro, che quella di Piacenza. Quelle rosse è la varzese, invece quelle nere sono la cabanina, che viene dalle cabane di Rezoaglio, in provincia di Genova. Non hanno le rese di carne come gli animali tipici da carne, tipo la limuseno o il piemotteso, che però è una carne che ha un sapore eccezionale. Sono vacche che hanno un indice di fertilità elevatissimo, difatti riescono a fare un vitello all'anno. Poi hanno una longevità enorme, io ho delle vacche qua dentro che hanno 16-17 anni e sono ancora gravide in produzione. Dunque la media di queste vacche qua sono 30 quintali di latte all'anno, più o meno. In confronto alla frisona che ne fanno 70, 80, 90 quintali di latte all'anno. Però le vacche frisone durano 3-4 parti al massimo e poi sono da buttare via. Queste uno si dimentica di avere nella stalla. Non abbiamo scoperto niente per il formaggio, perché io sono andato a intervistare delle vecchie, ma vecchie qua di San Ponzo, gente, donne di 90 anni, a farmi spiegare come facevano a fare il formaggio. Allora loro mi hanno detto che la razza prevalente qua era questa qua, la rossa, la Varsese. E ci avevano sempre qualche capra per avere latte per i bambini e qualche pecora per avere la lana. Ci si fanno fatti spiegare come facevano artigianalmente il formaggio e noi abbiamo fatto come facevano una volta. Basta, non abbiamo fatto nient'altro. Però i contadini sono abbastanza, cioè, prima di tutto sono resti a dar via la loro roba, che ci tengono. Però, facendo, insomma, insistendo, sono riuscito. Sì, 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 perché poi il passaparola, ma quello là forse ce l'ha, poi andavi da quello là. No, ma io non ce l'ho più, ce l'ha il tale, quello là. Io il grano sono riuscito a recuperarlo a Coli. Coli è un paesino sopra Bobbio. Ma su, eh, su in alto. Che c'era sto vecchiettino qua che si metteva giù il suo quadrettino di grano per farsi il pane. È per colui che io riesco a fare il latte anche senza adoperare i mangimi. Perché alternando sia il prato stabile, che è meno ricco di proteine, che l'erba medica, che è ricca di proteine, riesco a bilanciare abbastanza bene l'alimentazione. Sì, 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 siamo io e mia moglie. Mia moglie, lei fa il formaggio, si occupa del caseificio e poi le capre. È un latte che si presta proprio per fare il formaggio, avendo molte proteine, molti grassi. Ne producono molto meno le mucche, però c'è una bella resa, ecco. Non lo facciamo a latte crudo, non operiamo nessun'altra cosa che il caglio e sale e basta. La salatura viene fatta a secco, non in salamoia. E come facevano? Niente, come si faceva una volta. Per resistere a questi posti qua bisogna fare la roba che in pianura non riescono a fare. Perché se no noi non possiamo competere con la pianura. Perché la pianura c'ha tutto di più di noi. C'ha il territorio che è meglio, c'ha le tecnologie che si possono applicare meglio che da noi. E noi come facciamo a competere con la pianura? Non esiste.